Musica Venerdì 23 febbraio, buona giornata a tutti amici di Udinese TV, siamo pronti per incominciare assieme questa giornata come di consueto con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali e dei locali, ma prima di farlo siamo costretti ad andare subito sul web perché è entrata nel vivo la perturbazione annunciata con il maltempo e l'ondata di neve che sta coinvolgendo anche la nostra regione come vedete dalle immagini dei radar satellitari la perturbazione che si sta spingendo dal nord e dall'est Europa ha raggiunto la nostra regione con naturalmente la neve che è iniziato a cadere dall'alba su tutta la regione praticamente in maniera più forte, pressante sulla fascia orientale da Trieste al territorio del Cividalese, qui vediamo la webcam di Tarvisio, nevica anche in montagna dunque questo invece è il nodo della A4 a Palmanova con la neve che inizia a depositarsi tra i campi ai lati delle carreggiate questa invece è la webcam di Basovizza con Trieste già colpita ieri dal forte vento di Bora con raffiche oltre i 130 km orari vedete anche appunto l'indicazione del vento con le raffiche che stanno interessando soprattutto la costa del Friuli Venezia Giulia ma anche la fascia orientale andiamo a vedere dunque le indicazioni del traffico sulla rete autostradale regionale per quanto riguarda la A4 nevica da Villesse a Gorizia sulla A34 così come da Sistiana a Palmanova lungo la A4 mezzi spargi sale e spazzaneve in azione pure sulla A23 dal nord di Palmanova sino a Tarvisio con il nevischio per quanto riguarda il tratto tra Udine Sud e Carnia e poi neve tra Carnia e il confine di Stato con Coccao questa dunque la situazione del traffico lungo le strade e autostrade della regione naturalmente se ci saranno aggiornamenti torneremo nel corso di Buongiorno Friuli andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere i temi in primo piano partiamo dal Corriere della Sera e ci sono le dichiarazioni di Juncker ad aprire il quotidiano di Viale Solferino Juncker spaventa i mercati il Presidente dell'Unione Europea l'Italia rischia un governo non operativo poi frena nel frattempo lo spread sale e a Torino i centri sociali contro Casa Pound tre agenti feriti negli incidenti sono preoccupato dice il Presidente della Commissione Europea parlando del voto in Italia dobbiamo prepararci allo scenario peggiore cioè un governo non operativo parole che spaventano i mercati poi sarà lo stesso Juncker a correggersi ad ammorbidire toni scusate scontri a Torino nel frattempo tra antagonisti e Casa Pound vediamo assieme anche la vignetta di Giannelli a centro pagina le chiacchiere sono gratis i manifesti costano e naturalmente riferimento ai pochi spazi elettorali utilizzati dai partiti con i manifesti per le elezioni centro pagina la fotonotizia del Corriere guarda agli esteri alle stagini ai licei l'America divisa Trump pensa di armare i prof vedete l'incontro tra The Donald e una delegazione di sopravvissuti e genitori che fa scatenare nuove polemiche le altre notizie in prima sul Corriere della Sera abbiamo noi e Pamela lotta giusta e dimenticata contro le droghe l'articolo a firma di Antonio Polito e poi ancora i dati dell'Istat, rilancio dell'Ilva e investimenti per la crescita e ancora Cardani della Gcom che dice altre sanzioni per le bollette a 28 giorni questa è dunque la prima pagina del Corriere della Sera ci spostiamo ora su Repubblica anche in questo caso le dichiarazioni di Juncker trovano il titolo d'apertura Italia senza governo, la paura dell'Europa Juncker gela Roma, giù la borsa Gentiloni nel frattempo replica, nessun salto nel buio c'è l'analisi, la verità nascosta dietro una gaffa di Francesco Manacorda e poi tutte le facce del voto, i programmi, il lavoro dai precari alle neomamme le proposte dei partiti per rilanciare l'occupazione dagli spunti delle idee di Repubblica abbiamo il matrimonio sbagliato di Angela e poi ancora le voci dei ragazzi di Gota con l'articolo firma di Francesca Cafferri e infine il più bel gol delle donne compie 50 anni con Stefano Massini di taglio basso abbiamo anche un racconto con un superotto c'era una volta l'Amazzonia, i guerrieri della terra ferita c'è il reportage a firma di Marco Bechis andiamo su Libero con il titolo d'apertura che parla di profughi scarceriamo i profughi criminali il genio Gentiloni ha trovato la soluzione il capo dell'esecutivo annuncia un provvedimento per far uscire di galera circa 15.000 delinquenti fra questi la gran parte è costituita da immigrati che rimarranno qui a commettere dei reati intanto ogni anno mille italiani sono ingiustamente arrestati questo è il tema d'apertura di Libero mentre a centro pagina diamo retta a Papini chiudiamo le scuole nessuno è capace di riformare l'istruzione ma tutti la peggiorano in un libro di un secolo fa lo scrittore raccontava i disastri in classe più attuali che mai e poi ancora a centro pagina l'economia rifilare all'Italia le ferrovie dello Stato un'altra idea balorda del governo il titolo dell'articolo di Libero dal quotidiano Libero andiamo su Il Giornale con Finale da Paura questo è il titolo scelto da Alessandro Sallusti verso il voto Juncker evoca il non governo Borse a picco antifascisti tra genti feriti paura per domani e poi a centro pagina la Formula 1 la rossa è sempre più rossa ecco l'ultimo bolide del cavallino in riferimento alla presentazione della nuova Ferrari SF 7-1H per il prossimo mondiale di Formula 1 a centro pagina ancora il giornale demolire la burocrazia per far ripartire l'edilizia la ricetta di Berlusconi io come Zorro lasciamo il giornale ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano che in apertura se la prende con Renzi Renzi in fuga nella sua Toscana statali con guaglio di febbraio il governo chiede indietro gli 80 euro dopo anni torna Trasiena e Arezzo ma evita le piazze riferimento alla campagna elettorale del leader del PD a centro pagina l'inchiesta il report nato ignorato Kabul pure lo smog uccide ma per i nostri zero controlli e ancora di taglio alto tutti i disastri di Berlusconi se lo conosci e ricordi lo eviti vi come basta domani c'è una nuova iniziativa editoriale del Fatto che racconta appunto i precedenti di Silvio Berlusconi dal Fatto andiamo ora sul manifesto c'è Gentiloni la premier in foto d'apertura con lo scritto il secondino la riforma dell'ordinamento penitenziario fiore all'occhiello del ministro della giustizia Orlando finisce nell'urna funeraria Gentiloni la congela rinviandola al dopo voto protesta dell'usione del garante nazionale dei detenuti e dei radicali le destre invece esultano di taglio alto invece ancora Juncker l'allarme che fa tremare le borse del commissario europeo a gamba tesa sul voto italiano dal manifesto andiamo sulla verità l'apertura è dedicata ai sindacati che prendono soldi per lasciare a terra i marinai italiani CGL e Cisle Will incassano 190 euro per ogni imbarcato a prescindere dalle origini ma gli armatori agli armatori un filipino costa tre volte meno di un connazionale risultato il 60% del personale sulle navi è straniero e nessuno fiata la centropagina libero dedica l'apertura a Viola Carofalo la prezzemolina rossa che vuol far fuori fascisti e uomini galanti e poi ancora pagò la casa di Monte Carlo torna in affari grazie allo Stato restituite le slot machine a Corallo l'uomo chiave nel processo fini chiudiamo la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali con il sole 24 ore e temi economici ritroviamo anche qui le dichiarazioni del commissario europeo Juncker in Italia rischio di governo non operativo a Piazza Fari scattano le vendite Gentiloni stia tranquillo il presidente della commissione prepariamoci allo scenario peggiore poi si corregge centropagina al sole dedica la foto alle Olimpiadi medaglie e valori Fontana Orgoglio Italia ora a votare facciamolo tutti svegliamoci vedete la foto di Arianna Fontana che ha vinto la medaglia di bronzo nello short track collezionando appunto la sua terza medaglia di queste Olimpiadi lasciamo i quotidiani nazionali ci spostiamo su quelli locali a partire dal messaggero Veneto in apertura c'è la polemica sulle bollette le bollette e le scadenze bollette la rivolta dei consumatori scadenza 28 giorni scontro tra compagnie telefoniche e utenti di taglio alto invece il caso del video del leader di Casa Pound al Sacrario di Redi Puglia lo vediamo assieme il candidato dell'estrema destra Giron Filmato e scoppia la polemica nel frattempo Paragone dei Cinque Stelle è pronta ad arrivare in regione sarà lobbista delle imprese del nord ha dichiarato in questa intervista a centropagina sono due quest'oggi le foto che richiamano altrettanti articoli innamorato di Lauco un tredicenne romano racconta la sua storia Mattia sarà nominato al fiere della Repubblica e invece c'è un messaggio del passato uno scritto del 1930 hanno trovato anche un tesoretto in lire per quanto riguarda le altre notizie del messaggero abbiamo lo sciopero degli infermieri servizi sanitari a rischio in 180 a Roma per protestare e poi il libro con l'articolo di Paolo Medeossi quelli che assaltarono Monte Lungo queste dunque le notizie in prima sul messaggero andiamo ad approfondirle con la prima passante dedicata proprio al tema delle bollette a 28 giorni consumatori iniziano a pretendere i rimborsi c'è una battaglia tra compagnie telefoniche e gli utenti le fatture torneranno mensili da aprile andiamo a vedere l'attacco del pezzo a firma di Marco Tempo una legge imposta infatti la fatturazione mensile per le Pai TV e i telefoni boom di richieste alle associazioni per le informazioni vediamo anche assieme come si è espresso il Tar del Lazio con due ordinanze di accoglimento parziali delle richieste con le quali Wind e Trevodafone hanno contestato le delibere dell'Agicom che le sanzionava per non aver seguito le indicazioni dell'autorità il Tribunale ha quindi rinviato la questione dei rimborsi automatici alla discussione di merito con udienza già fissata per il 31 ottobre entro fine mese il Tar si esprimerà anche sui ricorsi di Telecom e Fastweb la ripresa il diritto di recesso è l'unica arma in mano ai clienti tutte le società hanno comunicato l'aumento delle tariffe le associazioni dicono così il cambio di gestore è quasi inutile e questa era la notizia del messaggero Veneto andiamo avanti sulle polemiche per quanto riguarda il sacrerio di Redi Puglia e il video elettorale girato da Di Stefano di Casa Pound eccolo qua le immagini girate all'alba con il leader Onor Caduti valuterà il villipendio del monumento e c'è una serie di reazioni politiche naturalmente con la regione il vicepresidente Bolzonello che dice è un luogo di riflessione e memoria non per la propaganda è inaccettabile il suo utilizzo per la campagna elettorale dice il vicepresidente della regione andiamo ancora avanti con le pagine interne del messaggero Veneto dedicate alla politica regionale c'è Liberi Uguali che strizza all'occhio al patto per l'autonomia Pegorer parla e dice il senatore di Liberi Uguali richiama le scelte utili per le politiche del 4 marzo ma al gruppo riconosce impegno e spiega che le regionali arrivano dopo queste le dichiarazioni di Carlo Pegorer mentre per quanto riguarda le elezioni del 29 aprile dunque le regionali accordo chiuso con la slovenska scopnost il PD ottiene il sì della minoranza nella pagina accanto invece l'abbiamo trovata in prima l'intervista Gianluigi Paragone il giornalista di variette estate e anche conduttore di programmi TV sulla 7 che è stato candidato per il Movimento 5 Stelle dice io giornalista di parte voglio essere il lobbista delle imprese del nord lunedì e martedì il tour elettorale in Florio di Venezia Giulia il futuro delle regioni autonome non è all'ordine del giorno dice Paragone nell'intervista a Mattia Apertoldi andiamo ancora avanti sulle pagine del Messaggero Veneto per parlare di economia e ci sono notizie importanti per quanto riguarda il futuro dell'aeroporto di Ronchi fissato il prezzo dello stesso scalo si tratta di 70 milioni il bilancio inutile 2,9 milioni di euro l'avvio del polo intermodale fanno lievitare il valore stabilito da un advisor indipendente nel frattempo sul fronte della canteristica MSC-CVU il 2 giugno il battesimo della nave high tech di Fincantieri andiamo ancora avanti con le notizie del Messaggero Veneto e ci spostiamo in città ci spostiamo a Udine con la pagina dedicata al capologo friulano con la sanità in primo piano perché? perché oggi c'è lo sciopero degli infermieri in tutto il paese dopo la sospensione di quello dei medici hanno scelto di rimanere in agitazione degli infermieri e ci sarà la trasferta del nursing da Roma dal Friuli in 180 per portare la protesta in piazza i segretari Casli e Petruz scrivono ai prefetti troppi ritardi delle aziende per definire i contingenti minimi molti ambulatori resteranno chiusi c'è anche un pezzo di ripresa invece sui risultati del banco farmaceutico sono stati raccolti farmaci per 7300 persone 380 i volontari che hanno partecipato all'iniziativa andiamo invece nelle pagine di cronaca del messaggero Veneto perché ieri per Udine è stata una giornata difficile con ben due casi di violenza sulle donne liti in famiglia la prima è successa in via Grazano ve l'abbiamo raccontata anche noi la lite per gelosia la ragazza è stata accoltellata l'aggressione in Borgo Grazano l'uomo bloccato poi in stazione un 35enne che deve rispondere di lesioni aggravate lei è rimasta ferita al braccio ha chiesto aiuto telefonando al 112 è stata curata dal pronto soccorso la sua prognosi è di 8 giorni vedete l'immagine di via Grazano mentre l'altro episodio di cui vi raccontavamo è capitato sempre in città con una donna picchiata dal compagno minacciata anche di fronte ai poliziotti più pattuglie sono intervenuti in una casa in zona piazzale Osoppo è stato arrestato un ventenne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e ci sono anche le dichiarazioni del procuratore De Nicolo che dice il trend non cala serve prevenzione altro episodio di cronaca che troviamo sulle pagine del messaggero è un sequestro significativo 20 kg di marijuana sono stati arrestati in due un blitz in un appartamento di via di Giusto trovati 23 kg di cannabis cocaina e 13 mila euro in contanti una coppia nei guai a insospettire gli agenti un grosso trolley portato dentro l'abitazione da un cinquantenne i conviventi un uomo di 50 anni e una donna di 41 sono ora accusati di spaccio continuiamo con le pagine dedicate a Udine città per ritrovare la politica il bando della Cavarzerani che continua a far discutere bando Cavarzerani costi esagerati a dirlo due consiglieri di Forza Italia mentre vedete anche il prefetto che replica chi contesta questa soluzione è lo stesso che non vuole i migranti nei piccoli comuni un tema che continua dunque a far discutere c'è anche un altro episodio di cronaca che arriva dalla città una fuga di gas con un condominio al freddo da tre giorni nelle palazzine Aurora di via Martignacco il problema sembra senza soluzione il guasto è in una zona privata e potrà essere riparato soltanto martedì siamo pronti per continuare ad andare avanti con le pagine interne del messaggero veneto per trovare gli altri temi soprattutto quelli meteorologici ne abbiamo parlato in apertura eccolo qua il freddo dalla Siberia le gelate in arrivo l'ortofrutta a rischio Arpa Osmer FWG temperatura impiccata da lunedì si teme che si possa possano rimanere danneggiate appunto le colture a pieno campo nel frattempo in città è scattato il piano per lo spargimento del sale andiamo ora in provincia sulle pagine dedicate al territorio del messaggero veneto per parlare anche un po' di noi di Udinese TV e del successo che ha avuto la trasmissione versus con la finalissima di martedì vedete tra Resia chiusa forte hanno voluto esaltare questa vittoria Resia vince la sfida delle località turistiche su Udinese TV decisiva la tradizionale cultura legata al carnevale al secondo posto chiusa forte grazie all'apprezzata se alla neve vedete la foto con me Valentina Beazzi e i due sindaci protagonisti della finalissima lasciamo le pagine del messaggero veneto e andiamo su quelle del gazzettino guardiamo innanzitutto l'apertura elezioni schiaffo all'Europa in Italia ci sarà un governo non operativo a dirlo Juncker che spaventa però i mercati e poi il gelo del premier Gentiloni tranquillo nessun salto nel buio sconcerto del colle altre notizie c'è la fuga dai negozi in centro storico a Venezia che troviamo sul gazzettino di oggi mentre per quanto riguarda l'edizione friulana andiamo ad approfondirla assieme abbiamo l'Udinese con la fotonotizia che preoccupa perché si ferma anche Beram in vista della gara con la Samp nuova tegola per Massimo andremo naturalmente ad approfondire questi temi nella rassegna stampa sportiva le altre notizie che troviamo prima sul gazzettino abbiamo la regione che ha deciso viene rinviato al 10 maggio prossimo il termine imposto alle famiglie dei bambini per presentare il certificato l'autocertificazione di avvenuta vaccinazione uno slittamento dettato anche da due circostanze la lunghezza dei tempi d'attesa per l'immunizzazione e poi il vistoso recupero delle percentuali dei livelli di copertura vaccinali ottenuti sul territorio le altre notizie poi consulenze e boom un milione in un anno nel 2017 un'inversione di tendenza dopo lo stop ripartono i cantieri la cronaca la ritroviamo anche qui l'episodio a Udine con il ferimento con una lama dal compagno dopo una lite e poi ancora fondazione con l'istruzione 600 mila euro per le scuole e la strada 52 bis 2 milioni per i punti più critici di taglio basso si ritorna sulla polemica legata al Sacrario di Re di Puglia con Casa Pound sotto accusa per lo spot elettorale queste le notizie del Gazzettino andiamo a vedere anche quelle dedicate a Pordenone c'è la sanità quella che funziona con le nuove cure in 80 mila hanno battuto il cancro è un dato che riguarda la provincia e la regione una battaglia che sta avendo successo resta però ancora alta l'incidenza ogni giorno circa 25 nuove diagnosi si parla naturalmente dell'incontro che c'è stato ieri nel capologo della destra tagliamento per fare il punto sui tumori con lo screening e la diagnosi precoce che sono aumentate e aumentano naturalmente anche la possibilità di sopravvivenza c'è anche la storia di chi ce l'ha fatta mi ero ammalato ad un reno combattuto e sono ancora qui questa è la testimonianza raccolta dal gazzettino di Pordenone lasciamo l'edizione pordenonese del quotidiano e ritorniamo sul messaggero sempre dedicato alla destra tagliamento a centro pagina troviamo il richiamo alla presentazione della nuova piazza 20 settembre il giardino dei sogni il comune ha presentato infatti il nuovo allestimento della piazza che verrà inaugurato sabato 3 marzo alle 17 rimarrà in piazza fino a metà maggio circa l'iniziativa è collegata alla fiera orto giardino in programma dal 3 all'11 marzo e ne costituisce una sorta di fuori salone andiamo a vedere all'interno l'approfondimento di questa notizia dedicata appunto a una delle piazze simbolo di Pordenone il giardino dei sogni l'installazione sarà inaugurata sabato rimarrà fino a metà maggio tema saranno i quattro elementi vedete i rendering di come verrà allestita all'interno le altre pagine dedicate a Pordenone abbiamo acqua e industria le radici del futuro nelle linee guida licenziate dalla terza commissione consigliare il senso più ampio del progetto nel frattempo c'è la pace elettorale una torta tema nella cena per i 50 anni della provincia ora abolita vedete la foto con l'ex presidente Deanna e Alberto Rossi per celebrare la provincia defunta di Pordenone duello mentre sul catastro strada è condannata la regione dovrà pagare la fattura sospesa e coprire le spese legali per le consulenze lasciamo anche il messaggero di Pordenone andiamo a Trieste con il piccolo vediamo subito la prima pagina abbiamo il titolo dedicato agli scioperi all'asilo con i genitori in rivolta già a 18 stop l'ira delle famiglie triestine esauriti i permessi di lavoro e poi a centro pagina la Bora che flagella Trieste danni e traffico paralizzato vedete un'immagine con un'auto travolta da un tronco e i vigili del fuoco al lavoro altre notizie l'ambulanza arrivò in ritardo due indagati di taglio alto invece anche qui troviamo la polemica su Casa Pound a Re di Puglia sotto accusa lo spot girato sui gradoni del Sacrario accertamenti sui permessi andiamo all'interno perché naturalmente ci sono interessanti riflessioni sulle elezioni regionali vediamo prima naturalmente le polemiche sul Sacrario con lo sdegno di PD e Leo vergognoso e gravissimo Fratelli d'Italia minimizza invece Bonino appare in videomessaggio e spero non è tristina a credere all'Europa abbiamo nel frattempo nella pagina a fianco le corse quasi impossibili dei candidati di bandiera anche questa è una riflessione che arriva da questa campagna elettorale per le politiche dalla Demma Fasiolo quarta nell'estino per il Senato al sindaco centrista Urbani la carica dei nomi dati già per esclusi ma pronti a giocarsi il tutto per tutto c'è il pezzo a firma di Marco Balico vedete anche i volti di questi candidati di bandiera andiamo nella pagina seguente perché c'è un'interessante intervista a Roberto Snyder dato tra uno dei possibili nomi per quanto riguarda la candidatura del centrodestra alla regione ma lui si chiama fuori non corro per il palazzo dice l'imprenditore che smentisce la volontà di candidarsi a governatore con Forza Italia avevo dato disponibilità per Roma ma qualche omuncolo non mi ha voluto dichiarazioni pesanti quelle di Snydero che poi aggiunge l'ex presidente di Fiderlegno stanco di essere tirato per la giacchetta attacca che ha strumentalmente usato il suo nome in questa vicenda e poi vedete i protagonisti di questa sfida per la scelta del nome del centrodestra l'incontro con il Cav il No Comment su Riccardi e l'ipotesi di Centa questi gli spunti che escono dall'intervista di Roberto Snydero dal piccolo di Trieste andiamo al piccolo di Gorizia con l'altra apertura dedicata all'Isontino e vedete alle superiori e boom dei tecnici iscrizione al liceo di Monfalcone con meno matricole agli stranieri piace l'Isis Pertini mentre per quanto riguarda la pagina dedicata a Gorizia città del piccolo la fiera della cooperazione sempre più internazionale spicca una forte sinergia con la Slovenia metà degli espositori arriva da oltre confine negli stand cancelli in ferro battuto idromassaggi e creme a base di bava di lumaca si parla di ExpoMego dunque a Gorizia prima di andare in pubblicità ritorniamo grazie all'ausilio della regia a vedere come sta evolvendo la situazione meteo sulla nostra regione soprattutto sulle strade e autostrade per vedere quanti riflessi ci sono da questa nevicata che sta interessando un po' tutta la regione vediamo sempre dalle webcam sul territorio e dal sito dell'OSPR ARPA la situazione con l'allerta meteo in corso e ci sono naturalmente le varie immagini che arrivano dal territorio che confermano le nevicate il nevischio la pioggia che sta interessando diverse zone vedete le immagini che ci arrivano anche sul fronte autostradale con i mezzi spargi sale e spazzaneve già in azione sia sulla 23 che sulla A4 questa è la carrellata di immagini che ci arrivano dal nostro Friuli con il vento e la neve ma anche la pioggia ci fermiamo qui dunque con questo ulteriore quadro meteo break pubblicitario poi di nuovo assieme per la rassegna stampa sportiva un po'